Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video, nuovo video con un giapponese a caso Prima di iniziare con questo video, volevo dirvi che a caso ha iniziato un suo nuovo canale Quindi andatevi subito ad iscrivere, ve lo lascio in descrizione e nel primo commento Sapete che lui sta studiando l'italiano, vediamo se adesso ci saprà dire una parola misteriosa Io ho fame Io ho fame, bene, io ho fame E su queste parole oggi faremo un altro video in cui il nostro giapponese proverà le merendine italiane Tra l'altro le merendine che ci avete consigliato voi, perché ci avete detto Fai il Kinder Bueno, fai la Kinder Cioccolato, fai il Tronchi, fai il Duplo Bene, oggi ne abbiamo tutte qui per voi e siamo pronti per fare la recensione Iniziamo con il Kinder Bueno Kinder Bueno, bontà a buon leggero Un momento Kinder Bueno, dai anche te Oh, finalmente è il primo giapponese che ha capito come si aprono le merendine della Kinder Ferrero Facciamo una foto per Instagram A proposito, seguiteci su Instagram, eh Ok Itadakimasu Itadakimasu Mmh 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 Buono Buono Mmh, manca in中 c'è un creme E' molto soft, eh Nippon c'è? Nippon c'è, non c'è Nippon c'è, non c'è, non c'è Oh, ok Questo è proprio un tipico dolce che non esiste in Giappone Infatti devo dire che come il Kinder Bueno, solo il Kinder Bueno Ma adesso andiamo a provare un nuovo versione del Kinder Bueno, che non l'ho mai provato neppure io Che è questo Ovvero il Kinder Bueno White Ah, sì, in Giappone non c'è molto cioccolato bianco, devo dire Mmh Eccolo qui, il Kinder Bueno bianco Nippon c'è molto Eccolo qui Eccolo Eccolo Mmmh Sì, è più dolce Qua c'è non può mai Mai, mai So È arrivato il momento delle Kinder Cioccolato Kinder Wa Means Bambino In German Ok A kindergarten Yes Kindergarten Asaggiamo Asaggiamo Itadakimasu 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 Oh,超好き,これ Hinto? Mmh Mmh Oisì Checco amai, ne Natsukasì, ne Ajiwa milk? Sagi latte E un genio Genio Mmh Naka wa soy milk No, c'è l'ho C'è l'ho Ajiwa milk Ajiwa milk Doche c'è l'ho Ajiwa milk Ah, ok Sa un po' di cioccolato bianco Passiamo adesso a un dolce che non è stato molto apprezzato dalle ragazze giapponesi Oddio, neanche odiatissimo, però diciamo non apprezzatissimo che è la Tic Tac Breeze di Quirizzi E voi mi direte, ma l'hai già fatto assaggiare a dei giapponesi? Sì, ma mai a un giapponese a caso Ecco qua Proviamo subito Sembra una medicina Come Sì, vai Do? Oh, non è questo Buono? Non è terribile Do? Buono? Sosso? Sa di plastica Davvero? No, non è terribile Ma il giapponesi non piace molto, dice Questo è il italiano E' un'altra cosa Non è terribile E' un'altra cosa Che coschinetto che vuoi E' una di liquidizia E' una di liquidizia Non lo so, è una di quelle cose come il bubble tea Non ti deve fare troppe domande Passiamo al duplo Questo ce l'avete suggerito nei commenti E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Sembra molto il Kinder Bueno Vedi, quello che c'ha la noce dentro Lui non lo sa Adesso si stoppega e muore Oishì? Coffino che cosa? Sa di caffè Ovviamente non c'è il caffè Oishì Un'altra cosa Azzaliore Un'altra cosa Un'altra cosa S'appare Coffè Siamo N'altra cosa Mi Scraccia S��i Che cosa vuoi? ma oggi è buono è buono è buono? buono? è buono è buono è buono è buono è buono tutti hanno un sapore molto simile una volta c'erano anche in Giappone questi io non ho mai visto nessuno mangiarlo così scopriamo che cosa abbiamo trovato dentro è buono buon appetito è buono è buono è buono e a proposito di è buono 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 beh io in questo contesto gli do un 5 perché rispetto agli altri è almeno buono di tutti per me questo è uno 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 è buono è buono quindi 8 e io a questo do 10 perché è il mio preferito è buono è buono è buono è buono 10 10 10 10 10 e io e io al dovetto della kinder do lo stesso voto che ho dato a questa questo questo è un po' rinfrescato la bocca con questo quindi 8 8 io a questa do si anch'io 7 vabbè ragazzi finisce così questo bellissimo video in cui vi abbiamo fatto vedere tutte le cose che si potevano mangiare ti faccio l'ultima domanda il tuo preferito è stato il kinder sorpresa o la la vincitrice della settimana scorsa che era la buon D vince ancora il buon D il buon D rimane ancora in testa le nostre classifiche ragazzi questa è la classifica di oggi comunque ditemi nei commenti se siete d'accordo con noi qual'era la vostra merendina preferita scrivetemelo nei commenti e fateci sapere se ci sono altre merendine che volete che facciamo assaggiare a un giapponese a caso saluta 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 saluta